Dopo una settimana del genere, con due positività che sono ancora conclamate, dopo tamponi, dopo riallenamenti rinviati, dopo un solo allenamento con metà della squadra, portare la prima in classifica, che è uno squadrone, al quinto set, credo che ti possa rendere orgoglioso. Anche se poi fino all'undici pari sembrava la partita tirata. Abbiamo assaporato sull'undici pari, però cosa dire, mi sono praticamente commosso, devo dire la verità, questa sera. Un applauso a tutte le ragazze che hanno giocato, un saluto a Emi e Sara che sono a casa, che hanno sofferto con noi, grazie alla tua telecronaca su Facebook. Rosalziola siamo qua, quindi siamo più forti del coronavirus. Ecco, io credo anche che comunque le ragazze oggi abbiano dato una risposta dal punto di vista, mancano due compagni importanti, diamo tutti un granello in più, si è visto. È quello che ci siamo detti sul gruppo squadra, cioè mancano due perni importanti al centro, però se tutte le altre fanno quel ciccinino in più, è il lavoro di squadra. Il lavoro è uno sport di squadra. Ecco, senti, gestire dal punto di vista dirigenziale una situazione del genere complicata, con due positività, poi c'è anche qualcos'altro, non è una cosa semplice comunque, perché si ferma un meccanismo. No, si ferma un meccanismo, riceviamo protocolli aggiornati praticamente tutte le settimane, dobbiamo stare attenti alla salute, prima di tutto, dobbiamo stare attenti anche all'aspetto sportivo e anche al morale delle ragazze. Quindi è tutto un equilibrio da tenere, stasera la dimostrazione che l'abbiamo tenuto bene. Un'ultima cosa, adesso Bellinzago che è l'ultima dell'anno in campionato, però c'è da recuperare una partita contro San Maurizio che peraltro in questa giornata ha perso in quel di Collegno, dove ha perso anche Rosalziora peraltro. Sì, abbiamo perso anche noi giù a Collegno, anzi 3-0 rispetto al Pierre, e niente, adesso ci mettiamo d'accordo con San Maurizio che è sempre dimostrato disponibile a trovare una soluzione condivisa per affrontare i problemi insieme, come così si fa. Prima di Natale andiamo a Sanma e vinca il migliore. E poi si fa festa a Natale. E poi il 21 si fa festa a Natale.